Sicuramente la malattia non è una malattia contagiosa, questo però per la maggior parte delle persone non è una cosa evidente, per cui sicuramente aumentare le campagne di informazioni su questa malattia, per cercare di aumentare la conoscenza di una malattia che è ancora in parte sconosciuta, può aiutare e può aiutare questi pazienti ad evitare la stigmatizzazione sociale e a permettere loro di poter tranquillamente svolgere le loro normali attività senza avere il timore di essere riconosciuti come portato via di una malattia contagiosa. Grazie